Ragazze e ragazze, buongiorno. Mi chiamo Luca e vi do il benvenuto in questo primo video del canale. Sì perché è quello di ieri e non lo definirei tale, in quanto vi mostrei con delle foto il mio cambiamento fisico dai 16 ai 19 anni. In questo video vi mostrerò la vera gym, la mia palestra personale dove ogni giorno mi alleno. Fatemi sapere con un like e con un commento se il video fosse di vostro gradimento e se vorreste un altro video dove mostrerei la mia scheda allenamento, il mio workout per intenderci. affiancato anche da una piccola guida per neofiti che vogliono approcciarsi al mondo della palestra. E per chi se lo stesse chiedendo, dei siamo nella mia camera. Questo è l'ingresso, ovviamente non potevo non abbellire la porta con una scritta che avvisi la gente di cosa si cieli dietro, ma ora passiamo al motivo per cui avete aperto il video. Ecco la mia palestra, non sono abituato a vederla così pulita e ordinata. Adesso vi faccio vedere le attrezzature. Inizio con un paio di parallele. Dei dischi di diesel di differente peso con i corrispettivi fermadischi di differente materiale. Una corda sbarra e altri attrezzi da collegare a questo macchinario per poi proseguire con due coppie di manubri, in questo caso da 17 e 12 chili. Per ascoltare musica che a sua volta ti dà motivazione, la cassa bluetooth. Qui la panca piana, affiancata da una kettlebell e un attrezzo da collegare a questa panca per allenare le gambe. Infine abbiamo il rack con la sbarra. Ultima ma non meno importante, qui c'è la zona protezione e prevenzione dagli infortuni. Abbiamo due cinture per la protezione della zona lombare, un paio di gommitiere, di ginocchiere, di polsini e di guanti da palestra. Concludo con la mia scheda workout e la molla per allenare gli avambracci. E ricordatevi, se vi sentirete soli, non c'è nessun problema, c'è la venerdì Botticelli che vi fissa.